Radio a numero, Instagram sempre Roma3 Radio dove potete vedere tutte le nostre foto, non ve lo consiglio Oppure ci potreste mandare un'email a romatreradiochiocciolauniroma3.it O sentirci sul sito radio.uniroma3.it O altrimenti venite qua, no? Avvio stiense, numero? Numero? Numero, numero? 131 L Eh, ma, veramente, ma pensate che dopo anni e anni di... No, anni e anni no, però insomma dopo mesi e mesi Ma vabbè, comunque, quale sarà il tema della puntata? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che ci saranno degli importantissimi cambiamenti per quanto riguarda il nostro programma Perché? Perché ci sarà la formula del notiziario, dopo vedrete E ci saranno ovviamente gli approfondimenti, quindi ci saranno più notizie, più temi, più ciccia da mettere al fuoco Esattamente Daniele mi segue, mi guarda per dire che cosa sta dicendo costui, non lo riconosco più Dopo vi parleremo, ma naturalmente adesso andiamo in musica con i The Hark Io ti amo, io ti amo, ti giuro A posto A posto, fatto Riccola Scalocchia ci dice, siete meglio di diletta Chi è diletta? Diletta Ma se io condivido la tua diretta, secondo me si vede anche sul mio profilo Vedi un attimo Aspetta, io condivido, non vedo qua che succede Sì, potrebbe essere interessante Pure Marco Rotini ci guarda, proprio lui Sì, dice che hai condiviso il mio video Tra i minutini neanche ricominciamo con l'eccezionale questa cosa È veramente eccezionale Stiamo scoprendo veramente le grandi magie di Facebook Sì, sì, veramente Noi persone vecchie, persone che facciamo anche programmi vecchi Ebbene noi invece si è Vediamo un'anticipazione solamente per voi tre che ci state seguendo Che sono Marco Fabrizi, proprio lui, un grande giocatore di calcio Non tanto veloce però ti affabula col pallone Marco Rotini, terzino sempre della squadra Salve anche lui E ovviamente Federico è il nostro sconocchia Oggi parleremo di Sconocchia che lo sconocchio io se non viene Morte Ciampi, Vertice Bratislava, Campania Clinton-Trump Basta, hai detto tre Non ho detto, parliamo di tre cose Hai detto Vabbè, ok, vi anticipiamo tre cose, facciamo così Anticipiamo tre cose Sì, sì, tre cose ma Due minutini e siamo nuovamente in onda Ora ci sta It takes a full time to be insane Eh, lo so Quindi, aspetta Guarda un po' Come vado? Ma manca uno che l'avesse scritto, capito? Ah, sì, sì, ma ribalta il cellulare e non semplice nulla Scusa Ah, me lo dicono tutti adesso Sì, al telefono, Daniele Manca la virgola e manca il punto Sì, sì, adesso si vede meglio Va bene, noi siamo dei Eh, perfetto, qua stiamo pure bene Stiamo così, oh Sì, sì, perfetto Carino Carino, ma è carino C'è un ala, è proprio lui Oh, ora sì, sconocchia Ma il doppio nome forse perché è un importante Di famiglia importante Per favore, non glielo dire Se no adesso comincia a bladerare Allora Apriamo il termometro Ok, abbiamo un minuto, vero? Dovevo aprire la diretta forse fra... No, ma tanto vedono anche il dietro le quinte Che è la cosa più carina forse, no? Sì Certo Tanto poi questa qua è una diretta privata Quindi non è una diretta su... Io ho messa pubblica La possono vedere tutti? Tutti quelli che vanno su un mio No, privata nel senso che su un profilo privato Sì, 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 sì Sono d'accordo, sono d'accordo La cazzo di connessione dell'università non funziona Eccezionale Belmonte Regista della nostra squadra Proprio lui, incredibile È un grande, è un grande Molto simpatico E rieccoci, rieccoci di nuovo in onda Insomma Abbiamo detto che ci sono delle novità C'è questo notiziario Cioè noi vi daremo le notizie Che hanno così contrassegnato La settimana che si sta per chiudere Domani inizia il weekend Ce ne andiamo tutti al mare Vero? Potresti venire da me, no? Tu è possibile che fai sempre pubblicità per Ostia Beh, è giusto Sei proprio guarda autoctono Hai ragione Di che cosa parleremo oggi? Beh, innanzitutto Di un lutto che ha colpito La politica nostrana E cioè la morte Dell'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeio Ciampi Ce ne vuoi parlare, Daniele? Ma sì In questo nuovo modo In cui In cui spiegheremo Le notizie In cui abbiamo strutturato radar Appunto abbiamo questo notiziario In cui parleremo attraverso pillole Di queste notizie Inizialmente Come appunto La morte di Ciampi L'ex Presidente della Repubblica Il decimo Presidente della Repubblica E uno dei due Che è stato eletto a primo scrutinio Quindi Anche significativo Per quanto riguarda L'unanimità Che vi era intorno a questo nome A questa scelta importante Che è stato anche Qualche anno prima Sei anni prima Precisamente Presidente del Consiglio In un momento delicatissimo Del paese Ecco Forse ha riunito Molta della classe politica Non tutti Perché vediamo oggi Anche ci sono state delle polemiche Sul nome di Carlo Azeio Ciampi Però un nome importante E poi dopo ne parleremo Insomma Mentre la seconda notizia È il vertice di Bratislava Che è passato un po' In realtà sotto traccia Nei notiziari nazionali Però è stato un vertice importante Perché? Perché è stato un vertice Che ha delineato Una frattura all'interno dell'Unione Cioè dopo il vertice di Ventotene Così pomposamente declamato Annunciato Ma soprattutto Così Posto a raggi X Da tutti i notiziari C'è stato questo Questo spacco Nel direttorio Nella troica Nella troica Nella troica dell'Unione Europea E infatti Il primo Il primo ministro Vabbè Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Primo minestro Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi Non ha partecipato Alla conferenza stampa Conclusiva Con Angela Merkel E con il Presidente francese François Hollande Perché? Perché ha detto Che è sempre la solita minestra Che non si è fatto nulla Non si è deciso nulla E che l'Italia Se posta Spalle al muro Deciderà da sé Quali saranno le politiche Da seguire Quindi insomma Vediamo anche come Il vertice Che in teoria Avrebbe dovuto Delineare Il post Brexit In realtà Si è concluso Con Non un nulla di fatto Però con L'ennesimo litigio In casa E poi abbiamo La campagna Clinton-Trump Che va avanti Continua sempre di più Ormai Noi avevamo già trattato Il tema Con il professor Fiorentino Di Scienze Politiche Il professore Di Stati Uniti d'America Di Storia degli Stati Uniti E avevamo visto In quel momento Una Clinton Molto avanti Nei sondaggi Invece Adesso si sono Diciamo raggiunti Trump è riuscito a Risolvere un po' La questione Forse Facendo anche Finalmente Forza Su quel partito Repubblicano Che precedentemente Non lo sorreggeva Anzi sorreggeva Altri candidati E ora sono molto vicini E sulle questioni Sicuramente Sfruttando anche La polmonite Che ha colpito Hillary Clinton E ha però Avvenuto Un evento Cioè Ci sono stati Degli attentati A New York Delle bombe Confezionate però Artigianalmente Che hanno Ovviamente Tenuto banco Nella campagna Elettorale Ovviamente Donald Trump Ha subito Cavalcato L'onda Della paura Dicendo Che Gli islamici Devono essere Cacciati E riportati Al loro paese Poi dopo Vedremo anche qui Perché c'è tutta la questione Della cittadinanza Americana Che non è proprio Fattore Di poco Ma Tornando dagli Stati Uniti Ovviamente Dobbiamo parlare Di quello Che sta tenendo Bacco Invece qui A Roma Nel nostro paese Infatti Sono le Olimpiadi Del 2024 Virginia Raggi Il sindaco Io non dirò mai La sindaca Perché è veramente Un termine orrendo Qui comincio la mia battaglia Contro il termine Sindaca Ha detto ufficialmente No Alle Olimpiadi Di Roma 2024 C'è stata una grande Baruffa Con Con il presidente Del CONI Malagò 35 milioni di ritardo 40 milioni di ritardo Noi andremo Oltre al gossip E vedremo perché Sostanzialmente La Raggi Ha detto di no A un evento Così importante E ricorderemo Anche un precedente Che fu quello di Monti Nel 2012 Che disse Nel 2020 Non si faranno Le Olimpiadi A Roma Per risparmiare Quindi che cosa è cambiato In questi quattro anni Ma poi parleremo anche Di un altro tema Molto importante Che è quello Del rinvio Da parte Della Corte Costituzionale Dell'esame Di appunto Di legittimità Costituzionale Della nuova legge elettorale Del cosiddetto Italicum Che comunque Nasconde anche Al suo interno Delle fratture Perché anche Renzi Aveva aperto A una possibilità Di revisione Di questa legge Elettorale A livello proprio parlamentare Diciamo per contentare Una parte del PD Che altrimenti Non lo aiuterebbe Con la riforma costituzionale Il referendum Ricordiamo poi Che proprio nella giornata Di ieri La Camera ha anche Votato una mozione Affinché si cambi Questa legge elettorale Nel frattempo però La consulta Ha rinviato Il suo giudizio In attesa ovviamente Di una scelta politica Perché ricordiamo Che la legge elettorale È una scelta Squisitamente Politica Ma è ovviamente Un discorso Che si intreccia Con le riforme Istituzionali Insomma Avremo tanto di cui parlare Adesso però Andiamo in musica Con Robbie Williams Rock DJ Tu devi dirmelo Con un minuto Anticipo Devo mettere La cuffia Che con una mano Non è facile Capisci? Allora Cominciamo Un Ciampi No? Ciampi? Cominciamo? Sì Hai visto che bomba Perfetti Sì Sì Infatti già gli ho detto A Auriella Di parlare con il ragazzo Che si occupa Della Da musica Allora Vediamo chi ci sta guardando Ci sta guardando Un grande giocatore di calcio Emiliano Palermi Che gioca in A2 Di calcio A8 Valerio Fabi Eccezionale Un Grellino Da tempi Non sospetti Davide Tarantino Ragazzi in cui gioco Ogni tanto Al calcio al mare Un amico Adicella Eccezionale Proprio lui Fabrizio Come sta la mano? È Marcolino E mi opero In settimana prossima Non tanto bene Eccezionale Belmonte Già salutato Stefano Romano Un Mio amico Fabrizio Genovese Sta guardando il video In diretta Vedi Questa è la tecnologia No? Cioè lui sta qua A un metro È un metro Elisa è una compagna Di università Ah beh Compagna poi tua Di università Per le scienze politiche Aia Rientriamo fra due minuti Se volete sentire Due cazzate Su Ciampi Bratislava Clinton Trump New York Olimpiadi Rinvio Legge elettorale Senti fa Non importa se Sforiamo Non c'è nessuno Di dopo tanto No? Quindi non sforiamo Dei venti minuti Però insomma Dieci minuti Vanno più che bene DJ Come vuoi prendere Ciampi? Eh? Scusa Come vuoi prendere Ciampi? Vogliamo fare Cominciamo con lui Presidente E poi andiamo a ritrosso Diciamo da Facciamo prima un breve Profilo Un bel Un bel Il 1920 9 dicembre 1920 Studi classi Studi umanistici Insomma Il classico Ok carriera in banca d'Italia Studi umanistici Il classico Carriera in banca d'Italia La Franca Visto come sei invecchiata Mamma mia Donna Franca Però fa sempre Però vedi Fa sempre un dispiacere Cioè anche se Si ha cent'anni Insomma Però sempre dispiacere Dopo vi parlo Di un professore Che abita al palazzo mio È del 12 Marco dice Grandi acuti Con rock DJ DJ 10 secondi Invece sono 30 Però io Cazzo Comunque Grandi acuti Con rock DJ Ah ma Marco lui Ciao Bea Salutami Patrizio E torniamo di nuovo In onda 17 18 Partiamo Direttamente Ti è piaciuto questa Vero Fabrizio Eh lo so Lo so Però non potevo farlo Dobbiamo diventare Ufficiali Dobbiamo diventare Bravi Specializzati Dobbiamo diventare Insomma Ma partiamo subito Dalla prima notizia E cioè Dalla morte Del presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeio Ciampi Breve profilo Nata a Livorno Il 9 dicembre Del 1920 Studi classici Eh Laurea in Filologia Antica Con una successiva Laurea in Giurisprudenza Eh Insegna In un liceo Classico Per poi Grazie proprio Alla moglie Franca Eh Fare un concorso Alla Banca d'Italia Dove rimarrà Per 47 anni Di cui 14 Come Governatore Verrà appunto Nominato Governatore Della Banca d'Italia Nel 1979 Dopo la crisi Del crack Sindona Quindi dopo Per succedere Al governatore Baffi Governerà La Banca d'Italia Fino al 1993 Quando il presidente Oscar Luigi Scalfaro Lo chiamerà A Palazzo Chigi Per un governo Breve L'ultimo governo Della Prima Repubblica Infatti poi Nel 1994 Darà la famosa Campanellina Al presidente Del consiglio Silvio Berlusconi Verrà poi successivamente In 1996 Nominato ministro Anzi super ministro Del tesoro E del bilancio Nel governo Prodi Confermato Nel governo D'Alema Nel 1991 Proprio grazie All'opera Di D'Alema Con Anche L'assenso Di Berlusconi Verrà eletto Al colle Alla prima seduta Alla prima seduta Con 707 voti Su 990 Rimarrà Al Quirinale Fino al 2006 Non vorrà Un secondo Mandato Con precise Poi Motivazioni Che poi diremo Nel corso Dell'approfondimento E purtroppo E' morto Insomma Il 16 Di settembre All'età Di 95 anni Figura Particolare Quella di Carlo Azeio Ciampi Perché? Perché è un tecnico Prestato alla politica Noi abbiamo avuto Un esempio Ultimamente Di tecnico Prestato alla politica Che però Ha avuto meno successo Meno consenso popolare E cioè Mario Monti Anche se Mario Monti Poi è stato L'unico dei due Diciamo A prestarsi anche A una campagna elettorale Quindi Le elezioni Ciampi Del resto Non l'ha fatto Però sono proprio Due figure diverse Ciampi Arrivò nel 93 Per risolvere Una situazione Di impasse politico Lui fu nominato Proprio perché La politica Non era stata capace Non solo di Riprodursi Positivamente Ma anzi Tangentopoli Aveva Diciamo Dichiarato Quali erano i problemi La politica La corruzione Era ormai Una questione Di normalità Anzi I corrotti Dicevano Sì ma gli altri Sono ancora più corrotti No? Chi Non ha peccato Scagli la prima pietra Questo fu il discorso Diciamo di Craxi L'arrivo di Ciampi Tentò diciamo Di depurare Quasi La politica Con questo governo Tecnico Il primo Penso poi Della storia Repubblicana A cui poi sarebbe successo Un paio di anni dopo Quello di Dini Sì è il primo governo Infatti Scalfor Fuoi fu Aspramente Aspramente Contestato Da parte Di tutte le forze Politiche Che però poi Sostennero Il governo Abbiamo detto Una legislatura Difficilissima Quella dal 92 Al 94 Che tanto vero Durerà due anni Che insieme a Quella del 94 Al 96 Erano le due Legislature Più brevi Della storia Repubblicana Governo Chiamato A appunto Traghettare Dalla prima Alla seconda Repubblica Con i partiti Che in quegli anni Stavano morendo Perché ricordiamo Sempre che tra il 93 Il 94 Il 95 Spariranno tutti i partiti Partito comunista Democrazia cristiana Partito socialista Tutti abbattuti Un po' per la crisi ideologica Vedi il partito comunista Un po' per Tangentopoli Partito socialista E democrazia cristiana Carlo Azzaglio Ciampi Appunto Chiamato A governare Nel 96 Invece fu nominato Superministro Del tesoro Traghettò invece L'Italia Nell'euro Ricordiamo Che il bilancio A quel momento In quel tempo storico Ma in realtà Anche adesso Le cose non sono cambiate Di molto Però Ridiede Grande Fiducia Rispetto Agli investitori Rispetto Ai governi Di allora Ricordiamo Il vertice Anche con Col Nel 97 Nel 99 Eletto Presidente Della Repubblica Siamo in piena Bicamerale È un periodo Abbastanza Controverso Quello Il governo È quello Di Massimo D'Alema Viene eletto Viene eletto Al Quirinale Avrà Godrà Sempre Di Un amplissimo Sostegno Popolare Ricordiamo Addirittura Il 90% Uno dei presidenti Più amati Anzi il presidente Più amato Insieme A Sandro Pertini Ricordiamo Solamente Che Una percentuale Se si può Definire Bassa Ma è Definire In realtà Quasi Bulgara Al Nord Italia Dove a quel tempo Primeggiava La Liga Nord 67% Patriottico Sì Del 2 giugno Sì Perché prima Si festeggiava La prima domenica Di giugno Invece fu E senza La parata Quindi senza Però cadere Mai nel Bieco nazionalismo Quindi mai Senza cadere Patriottico Nel senso Che conosceva I simboli Fu il primo A dichiarare Il Quirinale La casa Degli italiani Ad aprirla Anche al pubblico Quindi diciamo Una figura Veramente Importante Noi Vogliamo ricordare Ovviamente La figura Di Carlo Azeio Ciampi Perché insomma È stata Una grande Espressione Di un periodo Abbastanza Complesso E delicato Per l'Italia E per l'Europa Noi adesso però Andiamo in Musica Con Vasco Rossi Siamo soli Sì fantastico Che dopo Carlo Azeio Ciampi Mi mette i Vasco Rossi Con tutto il rispetto Per il Vasco Però Allora Dopo abbiamo Bratislava Dopo Bratislava Facciamo? Eh sì No Facciamo così Prima parliamo Ci starebbe No Prima voglio parlare Della Dove sta? Del mio esame Della legge elettorale E di Olimpia di 2024 Ok Allora Facciamo così Sulla parte Della corte costituzionale Tu Sulle parti Diciamo di Olimpia di 2024 No 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 Sulla parte Sempre no Dico All'interno della legge elettorale Sulla parte Della corte Del rinvio Vai tu Più che altro Che non ne so un cazzo Del rinvio Sulla parte Del Diciamo politica All'interno del PD Questa divisione qua No Questa sorta di scambio così Posso pure aggiungere qualcosa Però Per amici chiaro Io L'Italicum Non conosca bene Italicum Il ballottaggio Comunque Quello che Un ballottaggio alla francese Sì Vabbè Un ballottaggio alla francese Per modo dirlo Nel senso che Quello che è stato contestato È stato il ballottaggio E la candidatura multipla In più collegi Che era già stato precedentemente I collegi non sono i nominali Non sono i nominali Non sono i nominali collegi Funziona sempre a lista A lista bloccata Però sicuro si può candidare Allora il primo è bloccato Il primo è bloccato Vedi 100 collegi plurinominali Con capolista bloccati Plurinominali E vabbè ci sono le Ah ok Quindi gli altri posso segnarmeli Sono plurinominali Sì 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 C'ha lo subarramento Mazza è casino Sì però sono talmente tanti Vedi 100 collegi Con capolista bloccati Che 100 sono tanti Più piccole province Li mettono in province sicuri Quindi province Sono qui E non mi ascolti Pasquinelli Proprio lui Incredibile Stiamo tornando Fra pochi secondi Parleremo del rinvio All'esame della legge elettorale Dell'Italicum E dell'Olimpia di 2024 C'è un amico che Nel momento in cui Doveva incontrarsi Raggi Malagò Ieri Ieri l'altro Quando è stato Stava proprio sopra Un palazzo dove Lei stava mangiando fuori Cioè lei In un momento Le stava fuori mangiando Gli ha fatto una fotografia E lei ne aveva parlato Di un impedimento Non poteva Stava mangiando Perché è tale impedimento Ma è per te Io che ci credevo Più di te Ma smettiamola di piangere Basta piangere Daniele Non piangiamo più Dopo Vasco Rossi Puoi starci Allora Noi adesso invece Ritorniamo in onda Sono le 17.28 E parliamo di quello Che è accaduto Questa settimana Per quanto riguarda La legge elettorale Perché come sapete L'italicum Adesso è Alla corte costituzionale Perché sono stati Sollevati Dei dubbi Di legittimità Costituzionale Adesso posso respirare Un grande classico Esattamente Quali sono Ma su Che cosa vertono Questi due dubbi Il primo È ovviamente La candidatura Plurima Cioè La possibilità Da parte di un candidato Di presentarsi In più collegi Come in realtà Avvenuta Nel Porcellum Nel Porcellum La legge Calderoli 207 del 2005 E soprattutto Il ballottaggio Perché è quello Poi che più Preme Perché c'è la possibilità Per la coalizione Di partiti Che non arrivi Al 40% Di andare al ballottaggio I primi due Ora C'è grande discussione Intorno a questa Legge elettorale Ribattezzata Italicum Tramite la quale Il Presidente Del Consiglio Che ha posto La sua faccia A queste riforme Anche se adesso Sembra un po' sviare È quella Di eleggere Il Sindaco D'Italia Però da tanti Arriva Il rilievo Che il Presidente Del Consiglio Non è Un Sindaco Il Sindaco Amministra Qui parliamo Del Parlamento Depositario Della sovranità Popolare Nelle istituzioni E del Presidente Del Consiglio E ovviamente Il Governo Che è espressione Della maggioranza In Parlamento Non considerando Poi che il Sindaco È eletto direttamente Tra parentesi Con un doppio turno Ma comunque Con sostanziali differenze Esattamente E poi noi eleggiamo Il Sindaco E il Consiglio Comunale Invece qui non si elegge Il Presidente del Consiglio Si elegge solamente La Camera dei Deputati Perché no al Senato? Perché questo Dovrebbe essere Il combinato disposto Tra riforma Istituzionale Qui parleremo poi Del referendum Che probabilmente Si terrà Tra fine novembre E inizio dicembre E ovviamente La riforma La legge elettorale Che cosa è accaduto? È accaduto Che la Corte Costituzionale Chiamata appunto A decidere Perché questo è il suo compito In base alla Costituzione Se questa legge Sia costituzionale o meno Ha deciso di sospendere Il suo giudizio In attesa In attesa di che cosa? Perché c'è una volontà Politica nuova Che in realtà È uscita Questi giorni Di cambiare La legge elettorale Perché cambiare La legge elettorale? Noi adesso Facciamo i cattivi Perché noi siamo Molto cattivi Noi di radar E ovviamente Andiamo a vedere i sondaggi Perché andiamo a vedere i sondaggi? Perché I primi due partiti Vanno al ballottaggio Questa legge elettorale È stata pensata nel 2015 2014-2015 Quando dopo Lo schiaffo Delle europee Al Movimento 5 Stelle Sostanzialmente Il polo di centrodestra Unito Ma non più di tanto Perché abbiamo visto Salvini e Berlusconi Che se le danno Anzi Salvini e Parisi Che se le danno di santa ragione Da una parte E il partito Del Presidente Del Consiglio dei Ministri Che all'Europa del 2014 C'è espresso il 40% Potrebbero andare al ballottaggio Ma abbiamo visto Però che il Movimento 5 Stelle È ancora molto forte Perché su 20 ballottaggi Quest'anno ne ha 20 19 Infatti il Movimento 5 Stelle Nell'ultimo anno Ha recuperato tantissimo E nelle proiezioni Ha superato Ovviamente Il Partito Democratico E probabilmente Ha superato anche Secondo alcuni dati Ma sono tantissimi istituti Che ormai lo hanno certificato Ha superato anche Un'ipotetica coalizione Sia di quelle di centrosinistra Che una coalizione Di centrodestra Quindi vediamo Come c'è la volontà Noi ovviamente Non diciamo Che c'è la volontà Di affossare il Movimento 5 Stelle Perché non è questa La sede Però possiamo dire Che c'è questa volontà Di cambiare la legge elettorale Soprattutto vedendo i sondaggi E anche Da una parte C'è la volontà Di cambiare questa legge elettorale In senno a Matteo Renzi Perché sa Che il suo partito E lo sta dimostrando Questa estate L'ha dimostrato E lo sta ancora dimostrando In questo inizio autunno Come il suo partito Si è molto diviso Al suo interno Soprattutto per via Della riforma costituzionale E quindi Pensa di poter riprendere Parte del suo partito Il suo elettorato Ma anche della sua Classe dirigente Che comunque La sinistra del PD Sta Diciamo Lottando proprio Contro Renzi Su questo tema Rivenderla attraverso Un assist Cioè cambio L'italicum Come lo volete voi E in cambio Però Questo sì Me lo dovete dare Deve essere convinto Perché ricordiamo proprio Che il capo Anzi Uno dei tanti capi Della minoranza PD E cioè L'ex segretario Bersani Ha detto Che se non cambierà La legge elettorale Voterà No Alle riforme istituzionali Quindi diciamo come D'Alema È stato il promotore Anche di uno Dei Comitati Dei tanti comitati Per il no Quindi diciamo Che il partito democratico È profondamente diviso A parole Il centrodestra È schierato Per il no Però vediamo Come anche lì È una galassia In continua ebollizione NCD Diciamo come Il centrodestra Che in realtà Non esiste più Organicamente Non esiste più Non è sicuramente Il centrodestra Di dieci anni fa Che aveva una coalizione Una casa della libertà Un polo Certo Quindi vediamo come Sotto l'egita Del nostro Silvio Vediamo come appunto C'è la volontà Ma È un po'